Ciao Yasmin, ciao Catarina, complimenti, finale raggiunta. Qual era l'obiettivo, se era questo e quando era la partita? L'obiettivo era questo, di arrivare in finale e il nostro obiettivo sarebbe quello di vincerla anche. Questa non è stata partita, è andata molto bene e ci sentiamo molto positivi per domani. Contentissima che possiamo ancora giocare in Italia, da quasi due anni che non possiamo giocare questi assaluti. Molto felice di fare pure la finale. Domani quale insidio pensate di tenere? Che cosa avete paura delle vostre avversarie? Lo sapete ancora che sarà, però più o meno cosa vi avete aspettato? Ci aspettiamo di giocare contro Martina e Judith, sono delle avversarie molto difficili, ma noi daremo il nostro meglio per vincerle. Vi aggiungo. Siamo molto soddisfatte con la nostra performance, abbiamo giocato rilassate e speriamo che manteniamo questo livello per la partita domani. Domani giocate contro Catarina e Yasmin. Cosa vi aspettate da questo match? Quali sono le insidie? Allora sicuramente sono una coppia molto affiatata, hanno raggiunto molti risultati e le conosciamo molto bene infatti. Le insidie sono sicuramente che hanno un livello di gioco molto simile al nostro e quello che ci aspettiamo da domani è sicuramente dare il nostro massimo e trovare i loro punti deboli. L'obiettivo era certamente quello della finale, Judith, tu sei anche la campionessa in carica, lo rimani, ti vorrai anche riconfermare. Vi chiedo anche però di tornare a giocare campionessa in carica subito dopo due anni di assenza, che importanza ha per voi e comunque nel vostro percorso anche di crescita? Molto, siamo molto contenti di finalmente tornare di nuovo in campo e giochiamo le partite. Grazie a tutti.